Ti attende un trasloco e l'idea ti sembra un gigantesco ostacolo da superare? Andiamo a vedere quindi tre errori da non commettere, così da alleggerirti in questo passaggio, in questa esperienza, in questa nuova fase della tua vita. Io ho fatto dei traslochi, sì, li ho fatti, li ho fatti. So cosa significa fare un trasloco, quindi andiamo a vedere insieme un po' quelli che sono gli errori che si commettono maggiormente e che in effetti incidono poi sul carico di stress del trasloco in sé. Vabbè, il primo errore da non commettere è quello di inscatolare tutto a prescindere senza fare una cernita, una scelta. È importante scegliere ciò che vuoi inscatolare, prima di inscatolare bisogna assolutamente quindi riordinare. Ma non riordinare, anche qua bisogna andare a settori, quindi non possiamo prevedere di poter fare un riordino completo intero della casa, ma bisogna selezionare dove farlo perché può essere ovviamente più impattante a livello proprio di trasloco e di maggior aiuto anche poi nella fase trasloco io intendo dalla casa vecchia alla casa nuova, quindi poi anche lo spacchettamento. Dunque è importante riuscire ad avere una idea di insieme per riuscire a prepararsi al trasloco. Questo significa inscatolare tutto a prescindere è sbagliato. È sbagliato, bisogna selezionare su cosa intervenire e andare a ridurre perché può essere, come ho detto poc'anzi, può essere di grande impatto e quindi aiutare il trasloco e renderlo più facile. Dunque sì inscatolare, sì prepararsi in tempo per il trasloco, ma prevedere una cernita, una diminuzione della quantità delle proprie cose, il proprio spazio ambiente casalingo lavorativo. Secondo errore riguardo al trasloco è invece quello ovviamente con i tempi, non sapersi gestire assolutamente e partire troppo tardi. Allora non bisogna partire 250 mesi prima, però ad esempio quando l'ultimo trasloco che ho fatto, recentissimo, settembre 2023, io ho iniziato a inscatolare verso metà fine luglio del metà fine luglio, con molta calma ho preparato poi, ho fatto un po' di riordino, ho preparato, ho anche capito quanti scatoli mi sarebbero potuti servire e poi nella settimana precedente al trasloco, quindi a quando sarebbero arrivati poi camion e quant'altro, sono andata invece dritta soltanto in scatolamento, cioè bisogna capire che il trasloco si basa sull'inscatolare tutta casa, ma deve essere fatto in maniera intelligente affinché poi quando spacchetti tutto avviene in maniera fluida. Per in scatolare basta, bisogna essere sicuro che tutto quello che andiamo in scatolare deve andare nell'altra casa. Per questo, quel mese prima, quei due mesi prima, bisogna riordinare. Bisogna riordinare, bisogna vendere, regalare, fate quello che volete, ma bisogna prepararsi per ordine. Altrimenti ritroverai veramente che una settimana prima del trasloco non puoi fare altro che in scatolare tutto e purtroppo quello che accade è che poi in uno scatolone ci sono mix appunto di categorie di oggetti e questo poi non ci aiuta nello spacchettamento a trovare le cose che ci servono. Dove saranno? In quale dei migliaia di scatoloni? Eroi da non commettere. Io so cosa significa perché mi è successo e non avevo più pari d'idea di cui cavolo fosse una cosa perché l'avevo inserita in uno scatolone all'ultimo minuto e questo è quello che succede, che poi non sa dove sono le cose. Un altro errore è quello di non fare etichettamento. Bisogna etichettare, bisogna numerare le scatole, bisogna sapere esattamente che oggetti ci sono in quelle scatole. Io l'ho fatto perché innanzitutto le scatole vengono spedite e tu non sai cosa succede. Quindi io devi avere i numeri, devi sapere, devi conteggiare, devi fare un conto. Io l'ho fatto prima della partenza e poi quando mi sono arrivate le ho contate, le ho visto i numeri ed erano assolutamente tutte, le mie scatole ce l'hanno tutte. Però per dirti è importante sapere perché poi io avevo le mie note in cui sapevo che nella scatola numero 3 A c'era questa, nella scatola numero 5 B c'era quest'altro ed è così che poi riesci a gestire lo spacchettamento e a orientarti fra le tue scatole. Un altro errore che secondo me comunque è rilevante è quello di dare troppe importanze ai dettagli. Quei dettagli che veramente sono inutili cioè talmente inutili che infatti io non trovo le parole per descriverli perché quando io li sento mi rendo conto che è un altro sabotaggio cioè ti stai veramente sembra come se una parte di te abbia paura di fare il trasloco e quindi ti fa perdere tempo sui dettagli. se siete perfezionisti dovete togliervi proprio questo difetto perché è un difetto è un difetto il perfezionismo perché non vi porta a essere produttivi non vi porta a essere efficienti ed efficaci io ho visto traslochi rimandati tantissime volte tante vuole dover essere fatto ad agosto poi facciamo a settembre poi facciamo a dicembre poi facciamo l'anno dopo perché? Per questi errori cioè e anche altri anche altri come ad esempio il non categorizzare mettere le cose mischiate il nominare l'etichettare sono importanti da fare bisogna fare una certa ma ovviamente non è che possiamo fare tutto subito c'è un ordine di passaggi però è veramente angosciante poi diventa il trasloco invece io vi posso dire mi sono divertita mi sono stancata con la schiena perché fa tutto da sola ma perché a me piace essendo il mio lavoro mi piace farlo l'unica cosa è stato stancante a livello proprio di schiena ma perché io ci soffro ci ho sempre sofferto però per la maggior parte delle persone fare un trasloco è tipo un trauma una cosa proprio che se non lo volete fare non fatelo di non fatelo male piuttosto sentite me chiamate il numero verde sentite i miei consulenti entrate in contatto con me con insomma qualcuno del mio team abbiamo mille email mille modi per essere contattati su tutti i social eccetera e chiamate una consulente vi portiamo una consulente a casa e vi aiuta a fare il trasloco così almeno non avete problemi cioè almeno lo fate bene fatto bene credetemi è una pacchia cioè tu dici è stato bello fare il trasloco non è un trauma come purtroppo viene classificato nelle esperienze personali della vita delle persone il trauma è il secondo posto dopo una perda di una persona cara no non deve essere così e non può essere così va bene quindi questo è gli errori che volevo condividere con te ma visto che c'hai un trasloco in ballo oppure lo vorresti fare ma lo rimandi perché sei disordinata eliminiamo lo suo disordine come viene al mio evento lunedì 5 febbraio ore 21 ti puoi iscrivere con il link che troverai in descrizione di questo video fallo perché ti insegnerò come si fa ordine come io lo insegno come le mie consulenti lo insegnano ai loro clienti quando vanno a casa con il servizio a domicilio partecipa scopri come si fa ordine perché il disordine lo devi eliminare sicuramente perché ti darà quella leggerezza di dire ma io posso cambiare casa ma io posso cambiare vita ma io mi posso muovere il disordine non deve essere il motivo per il quale tu non vivi la tua vita come tu vorresti ed è con questa parola di saggezza che io ti saluto viene all'evento è online mi raccomando è live quindi non è pre-registrato e non prevede né registrazioni né repliche non vedrò di insegnarti come si fa ordine io ti auguro un buon riordino e un saluto da Alvaro Mito e un saluto e un saluto e un saluto